Buongiorno Polizia Buongiorno Buongiorno Dica Ho sentito che si stanno muovendo tutti in questa zona Sì Sì Ma senta se io me ne vado Cioè che vado verso Santa No no ma io le direi di non uscire in casa signora Devo stare in casa? Sì sì no di non uscire signora Tutta quella zona lì è un disastro Si manda in casa Ho la macchina parcheggiata sotto casa La pensi non la possono far fuori? Eh lo so signora può essere Io capisco Io le dico di stare in casa Lasci la macchina fuori e non pensi alla macchina adesso Ma le serve perché io ci vado a lavorare Eh ho capito signora Comunque io le dico di stare in casa La macchina comunque la può rimpiazzare Lei Tutta quella zona lì è tutta Non è stato per il fuoco signora Come? A me hanno detto che in questa zona non sarebbero passati oggi Che sarebbero stati nella zona rossa No no signora e sono dappertutto Non lo so Quindi Rimanga in casa la macchina la lasci lì Ma adesso c'è una manifestazione Passerà percorso Europa? Eh? Passerà qualche manifestazione percorso Europa? Sì c'è una... sì passerà Io appunto gliel'ho detto comunque Rimanga lì Lasci la macchina da dove sta Va bene? Va bene Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti